Un anno di mostri ad Arezzo che riporteranno in città anche la Minerva. È stato presentato il programma culturale dell'amministrazione relativo alle arti figurative. L'anno scorso abbiamo avuto questo grande evento che ha catalizzato l'attenzione per tutta la stagione estiva e invernale che è stata la mostra di Van Timer che ha riscosso un successo, devo dire, inaspettato. Quest'anno abbiamo pensato di fare più eventi, quindi la numerosità è maggiore, il livello di artisti è comunque altissimo e quindi credo che la stagione culturale di Arezzo per il 2017 che si inaugurerà questa settimana con l'inaugurazione del primo artista che è Rodolfo Meli, darà il segno della continuità nella ottica della grande qualità anche se l'eccellenza di Timer sarà difficilmente ripetibile in quest'anno. Le mostre varie e diversificate si terranno in diverse location, dal Palazzo di Fraternita alla Fortezza Medicia. Noi abbiamo ormai da tempo individuato dei luoghi che intendiamo valorizzare. Sicuramente la Galleria d'Arte Contemporanea è moderna, dove vorremmo anche proporre degli interventi di restyling esterno per accattivarne l'utilizzo da parte del pubblico e assolutamente la Fortezza Medicia sia nelle parti all'aperto sia nelle parti dei bastioni e quindi dei locali interni, dove già con Timer l'anno scorso abbiamo tracciato come dire una linea di utilizzo molto molto significativa. Ha finalmente una data anche il ritorno della Minerva ad Arezzo che sarà esposta nella Sala Torri del Palazzo di Fraternita dal 20 maggio al 30 settembre. Avrà un allestimento molto particolare, lo stiamo studiando e quindi sarà una Minerva insolita. Tra le proposte anche una collettiva di artisti e retini Arezzo per Arezzo. Inoltre l'amministrazione tornerà a disporre di alcune opere di proprietà comunale custodite al Museo di Arte Medievale che nel corso del 2017 saranno visibili nel Palazzo di Fraternita all'interno del percorso denominato Oro di Arezzo.